Musica Ragazzi ciao a tutte bentornati a un nuovo video Allora video refill per una mia amica E qui come sempre disinfetto e tolgo il colore con lo scovolino grana 80 Ora mi sono data gli scovolini e perché faccio prima Li prendo, li butto via, non devo disinfettare niente A parte chiaramente tutte le punte che uso per la manicure Però mi ci trovo bene e ora mi sono data gli scovolini Allora intanto spero di non annoiarvi quando vi faccio i video refill Perché poi bene o male comunque sono sempre le stesse cose Però per la prima volta farò l'effetto specchio Perché avevo questa polverina di passione unghie da tanto tempo Però non l'avevo mai fatta né su di me né sugli altri E quindi la mia amica ha detto fammela perché mi piace tantissimo E quindi abbiamo provato l'effetto specchio Allora qui tolgo il colore e con la lima tolgo il colore rimasto E mi sistemo leggermente la struttura E poi qui andrò a utilizzare per il refill L'acry gel cover fard di passione unghie Perché voglio andare a finire un po' tutti questi tubetti che ho di passione unghie Per poi insomma avere Voglio iniziare ad acquistare quelli di La Femme Perché mi piacciono tantissimo Però voglio finire prima quelli che ho Per poi acquistarne altri anche di altri colori Qui spingo indietro le cuticole E poi vado con le mie solite puntine per le pellicine Quindi vado con questa per alzare le cuticole E poi con quella piccolina tonda per toglierle ancora di più Allora qui pulisco il tutto E questo che spruzzo è il soft cleaner Di karma nail Che avevo comprato un po' di tempo fa E allora qui vado con i preparatori Quindi nail prep e binder Come sempre E poi vado con Ah ecco qui metto la estrema base Ora ultimamente sto usando estrema base E siccome lei Questa mia amica so che tornerà comunque fra un mese Quindi non a breve Quindi insomma un po' in là Ho detto ti provo a utilizzare estrema base Quindi lo metto con il pennellino su tutte le unghie E poi lo massaggio bene Con un altro pennellino che uso solo esclusivamente per la base A stenderlo uniformemente su tutta l'unghia Allora qui vado come ho detto Con il cover fard di passione unghie L'acry gel Il pennellino che uso è un pennellino semplicissimo In setole sintetiche Comprato da cinesi E non si è mai sciupato E funziona benissimo E quindi Insomma mi ci sto trovando bene Il migliore comunque sia È il pennello di La Femme Assolutamente Assolutamente mi ci trovo benissimo Avevo questo e ho utilizzato Questo qua Ma insomma Comunque sia Quello di La Femme È il top I prodotti di La Femme Ragazzi ultimamente che li sto provando varie volte Sono veramente fantastici Allora qui mi sistemo la struttura Allora lei ha le unghie che vanno in giù Quindi non mi preoccupo troppo Di mettere Tantissimo prodotto in punta Anzi meglio Perché poi andrò a limare Sotto la sua unghia naturale Tutto il gel in eccesso Ok qui vado a dare una sistemata al giro cuticole e in punta E poi utilizzo la mia punta Che è la smooth pink di passione unghie Per appiattire meglio il giro cuticole Perché andrò a utilizzare il colore nero E quindi cerco di tenerle più perfette possibile Perché come sapete il nero e il bianco Sono abbastanza rognosi Come colore da stendere perfettamente e uniformemente A prestità all' cheapnik Grazie a tutti. Ok, qui come detto prima vado a togliere l'eccesso di prodotto, il pollice lo vedete molto bombato ma poi me lo risistemo e gli toglierò un po' di eccesso di bombatura, e qui vado a togliere tutta la sua unghia naturale e a sistemarmi il tutto, qui un'altra volta con la lima. E poi passo il buffer per sistemare e lisciare tutta la superficie. Allora non userò il primer sopra il colore perché questo che userò è il semi permanente di Passione Unghie Nero. E quindi siccome mi ha fatto brutti scherzi il primer sotto il semi permanente non andrò a utilizzarlo e andrò direttamente con il colore nero. La prima passata la faccio molto sottile, anche se non sembra ma è sottile e vado in lampada per 60 secondi, anzi 90 secondi perché il colore nero lo tengo di più. 90 secondi e poi faccio una seconda passata e vado con il sigillante senza dispersione di Beauty Space Nails. E niente, poi lo tengo 60 secondi e vado con la mia polverina Effetto Specchio che è sempre di Passione Unghie. Grazie a tutti. Ok, qui vado con la seconda passata, un po' più abbondante e tengo il lampada, allora io lavoro con una lampada UV e con la futura. Allora, la futura la lascio comunque 90 secondi anche più e il lampada UV 240 secondi, quindi lo faccio stare più tempo il nero in modo che si asciughi perfettamente. Ok, qui ho saltato il sigillante, comunque sigillante senza dispersione di lampada, tolgo dalla lampada e vado con la polverina Effetto Specchio. Allora, mi raccomando quando lo fate cercate di mettere il sigillante dappertutto in modo omogeneo, se no vi succede come a me che nel medio, vicino alle cuticole, in alcuni punti è rimasto senza polverina. Quindi bisogna che il sigillante sia messo lentamente e perfettamente in tutti i punti, lo massaggio bene e semplicemente con questa spugnina che è una spugnina da trucco, da ombretto. E poi risigillo il tutto con un sigillante con dispersione che è il mio preferito, che è quello di tutto per le unghie. Ok ragazzi, allora vi lascio come sempre alla foto finale, agli ultimi secondi di video, vi mando un grande bacio, grazie di aver guardato anche questo video qua, spero vi sia piaciuto. E vi mando un bacio grande e al prossimo! Ciao ragazze! Ciao ragazze!